ABC del tamburello tradizionale calabrese e Calabrian Story L'amore verso le cose semplici come i luoghi dell'infanzia, le radici e le feste tradizionali generano in massimo l'idea di trasmettere lo straordinario patrimonio musicale della Calabria. Nasce così il manuale dedicato al tamburello calabrese. La presentazione del libro ABC del tamburello tradizionale calabrese e Calabrian Story è un recital concerto che affonda le radici nella cultura calabrese più profonda. Un'avventura tra passato, presente e futuro da condividere con le vecchie e nuove generazioni di musicisti, appassionati di storia e cultura popolare, con al centro il tamburello, timone di questo viaggio. Massimo vi racconterà i sogni di un adolescente calabrese, delle feste tradizionali e dei luoghi della Calabria, della costruzione del tamburello nel modo tradizionale e della gente da sfomonte. Lo farà attraverso un racconto autobiografico, con la musica dal vivo e con videoproiezioni. ABC del tamburello tradizionale calabrese e Calabrian Story è un percorso ancestrale nel tempo, nel ritmo e nella cultura calabrese.